ciao tutto bene sono ana una nutrizionista specializzata in dimagrimento estetico sono anche un capo cucina di cucina vivente e crudista da oltre dieci anni e nel video di oggi ti spiegherò un po le differenze tra fruggivorismo crudivorismo alimentazione vivente e fruttarianismo partendo dal fruttarianismo spesso confuso con il frugge quando si sente la parola fruggivorismo si pensa subito che riguardi solo la frutta ma non è corretto il fruttarismo sarebbe solo il consumo esclusivo di frutta che tra l'altro ha molte persone che sono fruttariane da molto tempo tuttavia non sono fruttariana il crudismo si basa su il crudismo si basa sull'alimentazione 80 10 10 ovvero 80 per cento carboidrati 10 per cento grassi e 10 per cento proteine i carboidrati da frutta verdura e verdura crude il 10 per cento dei grassi da frutta secca come cocco e avocado e alcuni tipi di noci e il 10 per cento delle proteine da questi gruppi alimentari perché molte persone non sanno che la frutta la verdura la verdura e le noci contengono proteine nel cloriborismo proporzione 80 10 10 ma aggiungeremo nuovi gruppi alimentari come legumi cereali semi di ceci lenticchie piselli chia semi di lino semi di zucca eccetera e i legumi consumati sotto forma di germogli cioè germogliati i semi possono essere consumati sia crudi idratati alcuni anche germogliati frutta verdura e verdura cruda o congelata o essiccata e ancora una parte di fermentati sia verdure frutta e alcune eccezioni come l'olio d'oliva l'olio di cocco che nonostante siano crudi sono raffinati il che è da evitare quindi dipende dalla persona che sta seguendo la dieta io almeno non consumo c'è la questione del cacao viene venduto tostato ma alcuni animali carnivori lo utilizzano ma io non uso uso il cacao crudo perché ci sono marche che vendono il cacao crudo o germinato nel mio caso uso alcuni germinati alcuni livelli germinati e il cacao in polvere panna la dieta vivente è molto simile al crudismo solo che la quantità di germogli è molto maggiore quasi alla base della dieta germogli e germogli c'è anche una grande quantità di succhi vivi fatti con questi germogli e una piccola quantità di frutta verdura e verdure crude o tiepide e non è permesso l'utilizzo di alimenti surgelati ovvero solo alimenti freschi a temperatura ambiente ah ma cosa serve sei crudista sei dell'alimentazione vivente non rimango solo su uno periodi in cui mi concentro di più sull'alimentazione cruda sul cibo vivo sulle frutta ora ad esempio dato che ho portato tutti questi frutti biologici dalla serra doipute diventerò più fragile vero questo è il motivo per cui approfitto perché la frutta si deteriora più velocemente giusto in una parte ho congelato circa 5 kg di sushi nel frigo oltre a questi tre sushi nascosti quindi sarò più fredda in questo periodo ma ci sono periodi in cui faccio più germogli faccio più fermentati insomma hai domande lasciale qui nei commenti e risponderò volentieri se non segui ancora il canale seguimi metti mi piace commenta il video con il tuo dubbio e seguimi sui social network instagram facebook tik tok dove posto molte cose pubblico la mia giornata ricette molto belle ok quindi è così spero che vi sia piaciuto il video bacio